Ciao a tutti, io sono Aesir e questo è un video che in questo caso particolare girerò senza webcam per una serie di ragioni tra cui il fatto che non sarà strettamente necessario avere la webcam per quello che intendo farvi vedere qui. Allora, anche questo video potrebbe essere il primo di una serie a seconda di se e quanto il gioco mi piacerà e deciderò di continuarlo su Youtube. Di che gioco si tratta? Di che cosa vi vado a parlare oggi? Allora, il gioco si chiama The Wasteland, è un gioco realizzato da un italiano, uno solo, quindi è uno di quei giochi fatti da una sola persona. Come forse alcuni di voi sapranno, negli anni 80 e inizi degli 90 questo era lo standard, nel senso che quasi tutti i videogiochi erano il frutto dell'opera di una sola persona e c'era un solo programmatore alle spalle di ciascun progetto. Quelle cose milionarie dove vedete 30.000 persone e un cast che è 5 volte quello per la produzione di un film, sono cose relativamente recenti rispetto alla storia dei videogiochi. Diciamo che ai tempi in cui si programmava in Basic, un singolo programmatore era in grado di curare contemporaneamente la grafica, il sonoro, il gameplay, tutto quello che serviva per realizzare un videogioco, anche perché il codice era abbastanza semplice, semplice per modo di dire, non che fosse un'impresa da poco, però sicuramente rispetto a quello che vediamo oggi e agli strumenti che vengono usati oggi, era un lavoro che poteva materialmente essere compiuto da una sola persona. Naturalmente è ovvio che nel panorama indie c'è chi si confronta con la realizzazione di un gioco che ha più o meno la stessa portata di quelli dell'epoca, quindi con una grafica magari super pixelosa, che non richieda una modellazione grafica a poligoni o con strumenti moderni, con motori grafici avveniristici come l'Unreal e tutto il resto, ma semplicemente una rappresentazione bidimensionale con pochi pixel, una grafica a 8 bit, allora in questo caso è chiaro che la mole di lavoro torna nuovamente a comprimersi fino ad essere alla portata di una singola persona. Come sapete nel panorama moderno indie, quello che conta veramente per cercare di realizzare un gioco che possa avere successo sono le idee, perché la realizzazione grafica è solitamente spartana e comunque di poco, di scarso impatto nell'ambito della produzione generale, a differenza di quello che succede invece in produzione di AAA, del calibro di Uncharted, di Call of Duty, dove sono gli effetti di luce, i poligoni, le texture, le animazioni, a farla da padroni, no? Quando noi vediamo un gioco alla Call of Duty dove è tutto estremamente cinematografico, non voglio dire che mettiamo in secondo piano la trama, però sicuramente quella viene ad essere solo un aspetto, quando invece ci troviamo a guardare una rappresentazione così spartana, grezza, da lasciare addirittura ampio spazio all'immaginazione per cercare di capire cosa stiamo vedendo sullo schermo, è evidente che un ruolo fondamentale assuma la narrazione, la trama, l'ambientazione, l'idea generale che c'è alle spalle. A volte questi giochi hanno da comunicare un messaggio così profondo, da mandare in secondo, terzo, quarto e quinto piano la grafica che per l'appunto non potrebbe essere in grado di competere con quella di nessuna produzione moderna. Allora, il gioco in questione, del quale non ho preparato neanche una copertina, che figo che sono, ma perché semplicemente ho fatto le cose molto in fretta e questo video non so neanche se sarà la stesura definitiva da pubblicare, comunque è una prova, un esperimento che facciamo, comunque il gioco in questione si intitola The Wasteland, è ispirato all'omonimo romanzo, credo, di Thomas Elliot, in realtà io non so neanche di che parla, però ho una vaga idea della trama di questo gioco, che non vi vado a spoilerare assolutamente, ma ve la faccio scoprire insieme a me. È la prima volta che gioco questo gioco, so per via traverse che il genere dovrebbe piacermi, tra l'altro la stessa procedura con cui l'ho acquistato su Steam è stata tutt'altro che lineare nel suo svolgimento, cioè io non mi sono limitato a trovare il gioco su Steam, comprarlo e via, ho dovuto fare diverse peripezze io per procurarmelo. Il gioco tra l'altro ha anche degli achievements su Steam, ma non ho guardato bene quali, mi ho sbloccato uno la prima volta, ma non ho fatto particolarmente caso. Ok, allora, adesso procediamo, andiamo a vedere un po' come si vede il gioco e se il volume è buono. Io spero di non fare la solita cosa che ho fatto l'altra volta. Ok, naturalmente sto streamando al buio, quindi io non vedo quello che trasmetto, perché sto lavorando con un solo scherpo. Comunque, nella più totale inconscienza io seleziono come lingua l'italiano, il gioco è fatto in italiano, ma come vedete è tradotto in quattro lingue, e do inizio ad una partita. Puoi giocare il tutorial? Sì. Allora, scegli la difficoltà. Guardate, questa, la scelta dei nomi da attribuire ai livelli di difficoltà fa capire che il programmatore è un nerd vecchio a scuola, perché ha classificato il più basso livello di difficoltà 2014 come infimo casual, con evidente riferimento ai giocatori moderni, abituati a giocare con i check point e tutto il resto. 1994 tipo normale, 1986 orgoglioso hardcore. Benché tra queste tre categorie io mi inquadri meglio nella classe 1986, vi ricordo che ho cominciato a giocare nel 1984, quindi sarei perfettamente adatto alla classificazione e datazione temporale del livello orgoglioso hardcore, probabilmente il gioco richiamerebbe alcuni di quelli del Commodore 64 che erano veramente impossibili, ma ai fini di questo streaming e per rendere relativamente più lineare la cosa, mi qualificherò come un tipo normale, classe 1994. Bene. Allora, il protagonista è questo simpatico mino vestito di verde, stai per imparare le basi di questo mondo. Ok. Dai un'occhiata a dove sei ora premendo M per aprire la mappa, metti in pausa il gioco in qualunque momento premendo P. Allora, con M, come vedete, visualizziamo una mappa del mondo che non abbiamo modo di stabilire quanto sia grande guardando solo questo, però vedete che io qui vedo una zona già abbastanza corposa che viene rappresentata come una di 1, 2, 3, 4, 5 almeno regioni del mondo, forse 6, e quindi ci aspettiamo una cosa abbastanza vasta. Allora, il nostro mino sembra una specie di robin hood, no? Ha questo cappuccio verde, un vestito medievale, può proseguire. Ecco, prima di tutto salta, salta con C, o col pulsante 1 del joypad. Degli stivali magici possono sbloccare il doppio salto, per fare un doppio salto salta di nuovo a mezz'ari. Attento, cadere da considerivo di altezza può essere pericoloso, addirittura mortale, nelle difficoltà 1986-1994. D'altra parte, è quello che ci aspettiamo. In un videogioco io mi aspetto che se il personaggio ha delle grandi altezze, si faccia del male. Invece, in modalità 2014 non provocherà danni, ecco, vedete? La prima facilitazione per chi gioca in modalità 2014, ma a noi le cadute non fanno paura, o meglio, ci fanno paura, ma non ci fa paura di doverci stare attenti. Afferra quella spada. Usala con il tasto X o col pulsante 2 del joypad e provo a fare a pezzi questo nemico inoffensivo. Ok, spada a me, l'attacco è su B. Hop, hop, ah, marrano, vile. Ok, lo abbiamo sgominato. Lo meritava in fondo, chissà quali orribili peccati aveva commesso. Sicuramente non ha i miei danni, perché... Vi sono vari tipi di armi da ottenere. Prendi quest'altra spada, per esempio. È più grande affilata e provoca molto più danno. Ah, vedete che la seleziono automaticamente. Tac, tac, ecco, in due volpi ho eliminato il mollusco gigante. Visto? È molto più facile farlo a pezzi. Ci sono molte altre armi da trovare. Alcune armi hanno abilità speciali o infliggono più danno a determinati nemici. Puoi cambiare l'arma corrente usando l'opzione e armi nel menu di pausa. Che sarebbe questa. Vedete, spada corta, spadone da guerra, però non c'è modo di vedere le caratteristiche. Le dobbiamo per forza provare sul campo. Cuori. Difficoltà, come vedete, è possibile cambiarla per strada. Se un giorno ci riscopriremo troppo nabbi per giocare nel 1994, ci trasferiremo nel 2014. Otterrai anche un'arma secondaria. Prendi l'arco e colpisci il nemico nel pulsante V o nel pulsante R del joypad. Tieni premuto il pulsante fino a che l'arco non è teso. Più lo tieni premuto, più lontano andrà la freccia. Il prossimo nemico è immune ai colpi di spada. Perirà solo sotto le tue frecce. Vedete che, a seconda di quanto si tiene teso l'arco, la freccia percorre una parabola diversa. Se faccio un attacco diretto, senza puntare proprio, la freccia addirittura non raggiungere anche il terreno. Se invece tengo più a lungo puntato l'arco, la freccia percorre una traiettoria più lunga. Ok. Ho la sensazione che la combinazione armi da mischia e da tiro si renderà indispensabile. Colpisci la distanza per liberarti in sicurezza di quel mostro schifoso. Com'è razzista questo narratore, però? I mostri sono automaticamente schifosi, attivi e meritano la morte. Arco e frecce differenti. Quando l'arco è completamente reso, le frecce prenderanno fuoco, causando molto più danno. Prova di nuovo frecce normali e rincendiari. Prova anche ad abbassarti col tasto giù, riuscirai a colpire meglio i nemici più piccoli. Ok, proviamo. Oh, figata! Ah, ecco, vedete la freccia da fuoco al nemico che rimane temporaneamente infiammato. Brucia, brucia, brucia! Ce la prova a morte con i vostri, eh? Spietato. Ok. Alcuni nemici possono essere eliminati con un solo colpo preciso. Salta, premi e tieni premuto Z, pulsante 2 sul joypad, ora tieni premuto giù per un fendente verticale. Così. Ah, ecco, figata! Questo attacco mi ricorda alcuni videogiochi dell'era degli anni 80, in cui si poteva fare questo. Ok, ho spiaccicato il verme senza pietà. E tu chi sei? Parla alle persone, potranno gradirlo meno in ogni caso. Comunque avvicinati e premi su. Per procedere alla conversazione premi qualunque pulsante di azione. Questo invece mi ricorda un vecchio gioco del Commodore 64, che si chiamava, si chiamava, si chiamava, non mi ricordo il nome. Il protagonista era tipo questo, gli astrogliava molto, però era una versione moderna. Era ambientato nei tempi moderni. Oddio, non mi ricordo più il titolo. Era qualcosa? Island? Può essere. Salve, stranero. Buona fortuna per i tuoi viaggi. Ok, è stato amichevole però. Per entrare in un edificio, una grotta, qualunque altro posto interessante ma pericoloso, premi su. Qui l'effetto Castlevania 2 si fa potente. Entra in quella casa abbandonata e vediamo se ne uscirà. Grazie, eh. Ma certo che ne uscirò. Io sono un brodo di guerriero. L'energia vitale si perde facilmente. Ripristinala con bonus. Ripristinala con bonus quando li trovi. Alcuni nemici fanno cadere bonus da tua morte. Ah, ok, è vero. Avevo uno spicchio di vita che avevo perso, che non avevo mai avuto e lui mi era ripristinato. Tutorial. Cuore. Cuore come questi aumentano la tua massima di energia vitale di un poco in modo permanente. Non si trovano facilmente però. Cerca di controllare quanti ne trovate dal menu di pausa. Ah, ecco cosa erano i cuori. Quindi i cuori sono una sorta di power-up che aumentano la barra vitale. Qui puoi vedere quanti ne hai raccolti così ti fai un'idea di quanto sei avanti nella progressione del personaggio. Ok. Sei pronto per viaggiare in queste terre? Ma prima prenditi un istante per salvare. Quindi questa specie di trullo, con la fiammella blu, è un punto di salvataggio. Puoi farlo premendo su vicino a questi piccoli esempi che troverai spesso in giro. Salvare ripristinerà anche la tua salute, fortunatamente. Ecco, vedete, questo gioco è fatto proprio con una grafica che quanto mai spartana, proprio la più spartana possibile, avremmo potuto vederla su Commodore 64, una grafica di questo genere. Infatti vedete che è totalmente bidimensionale, gli sprite sono rigidi, fissi, il personaggio ha un'animazione composta da due o tre sprite che si alternano, eppure vedete che non facciamo troppa fatica di immaginare lo scenario. Le case, il tumulo, gli alberi sullo sfondo, sono tutti chiaramente identificati, diciamo, hanno tutti una loro identità. Entra nella vita di Rezairon III, signore di tutte le terre conosciute, quindi non è uno stronzaccio qualsiasi, è uno importante. Questa è un'età benedetta ricchi raccolti e da un fiorente commercio. La tua è una vita di piacere e lusso. Che figata, è bello fare il Re, diceva qualcuno. La noia è il tuo unico nemico. Passi i giorni deliziando i sensi, non negandoti nulla, o come oggi in lunga caccia. È vero, la caccia era sempre una... uno dei passatempi nobili annoiati nell'antichità, e nei tuoi placidi sogni tutto questo durerà per sempre. Invece finirà, sicuramente. oggi è l'ultimo giorno di tutto questo. Figo. Cataclisma in arrivo. Meteora. Cosa sta per succedere? Buona caccia maestà. Ho salvato? Vabbè. Buona caccia maestà. Non trovo il mio arco. Prenderò la spada comunque, sarà ancora più divertente. Quindi adesso abbiamo la spada corta. Ok. non dimentichi il suo arco, mio signore. Sapessi dov'è? Non è che lo devo cercare. Tenda di Lady Gessner. Hai detto di non avere tempo per questo, no? Mi chiedo per cosa. La preda non attende, dicevi. Forse hai ragione. Beh, dipende dalla preda. Io me lo prenderei il tempo per una... Vabbè, niente. Fate finta che non abbia detto nulla. Sì, mio signore. Oh, è bello essere serviti e riferiti, però. Sì, mio signore. Però è vero, il mio arco... Dove sarà? Un altro trofeo per la sua collezione, mio signore. Questione di un colpo dal suo arco. Sarà un bersaglio facile, la sua eccellente mira, ma prendete per il culo. Io non trovo il mio arco. Ma non è che lo devo veramente cercare. Qua non ci posso salire. ai vostri ordini, mio re? Ma non è che l'ha preso qualcuno di voi? Dai, cacciate fuori l'arco, su. Lo so che ce l'avete voi, bastardi. Vi ammazzo tutti? No, non è vero. Non farete male ai miei sudditi? Altrimenti che razza di re delle terre conosciute sarei? Sarei un re delle terre desolate. Se passassi nei sudditi a fin di spada. Però mi piacerebbe sapere dove è finito l'arco. Forse lo troverò più avanti. i cani abbaiono in quella direzione. Flattermouse presenta. Ahia, una tagliola. Un gioco di Michele Caletti, ecco. Devo stare attento perché le trappole che io stesso ho piazzato sono pericolose anche per me. Ma non le vedo. Ah, no, no, eccola lì la tagliola, vedi? A cosa stanno abbaiando i cani? Posso colpire questi oggetti? No. Ah, ovviamente non ho stivali di alcun tipo. Di alcun tipo, quindi posso saltare solo una volta. Tu cosa sei? Una pianta? Innova. Ok. Oh, e tu chi sei? Un lama malvagio? No, non è malvagio, non mi sta attaccando. Ahia. Come sono maldestro. Ok, fine corsa. Oh, sono riuscito a beccare due delle mie trappole. Oh, l'ho ucciso. In realtà non volevo però. Fui a rimanare colpi di spada a casaccio. Cosa è successo? La terra ha tremato. Come un tuono alle sue viscere e ora questo orrendo silenzio. Meglio tornare al campo, c'è qualcosa di strano. di strano. Questa è l'unica trappola che sono riuscito a non ingocciare. Ah, però si sono... le trappole si sono riaperte. I cani continuano ad abbaiare. Ciao, cani fidati. il vostro padrone ha fatto una cazzata, mi sa. Oh. Tutto bruciato? Così tanti e orribili? Ah! Tutti i miei soldati morti, attaccati, così lontani dalla mia corte. Nessuno mi riconoscerà. cosa posso fare? È vero, sono morti tutti. Oh, ma tu sei... tu sei ostile. E guardate quanto è grosso sto cazzo di corvo. Bisogna essere attenti perché... Eccone un altro. Ti posso attaccare anche in volo, sì. Sì. 12. Cos'è quello? Ho raccolto una cosa ma non so cos'è. Tu chi sei? Aprile è il mese più crudele. Chi sei tu? Attento, sono Zyron III, re di tutte le terre emerse. Io sono Tiresia, il vecchio profeta. Nel mio corpo convivono il maschio e la femmina, e i miei occhi scavano il passato e sondano il futuro. Non capisco e non mi interessa. Se hai qualcosa a che fare con questa distruzione, la mia spada si prenderà cura di te. Oh, mio giovane re, sì, proprio tu hai molto a che fare con questo e non lo sai. Cosa intendi? Parla. Tuo padre ti ha insegnato gli antichi rituali di fertilità, che mantengono le terre vitali e benevole con i fragili uomini che le abitano. Ti ha insegnato che durante la storia vi sono momenti in cui questo legame va perso ed il re, solo il re, ha il potere di ricrearlo. Altrimenti la terra scuoterà via i poveri mortali come polvere. E allora? La strana bestia che hai ucciso era la materializzazione di questo legame. Nelle tue carni il naturale incontra il mistico, ma uccidendola hai distrutto tutto. La tua vuota e stupida ricerca di avventura ha messo la terra in pericolo e solo tu puoi sanare il tuo errore. Stupido? Vuoto? Come osi? Sì, stupido e giovane, non interessato nel destino di queste terre, ma ora i mostri si sono diffusi e solo tu puoi riportare la pace. Quando tutto questo sarà finito, sarai giudicato per queste parole. Cosa dovrei fare? Cosa dovrei uccidere? Stai sottostimando il tuo compito. Devi trovare le sorgenti di questo male sparse per la terra e sigillarle di nuovo, ma non è abbastanza. Alla fine, non è dovrai sposare la terra di nuovo, ricostruire il legame perso. Una cosa per volta. Dove? Cosa? Chi? Non ti posso più aiutare ora. Vai. Addio. Spero di vederti in vita di nuovo. Che bello. Il nostro re è un cazzone. Qualche tipo di mostro ha distrutto il campo. Qualcosa che i miei soldati non hanno saputo fermare. Qualcosa di tanto grande e forte da scavare un fuoco nella montagna. Vero. Quindi c'è un tunnel. Posso entrare qui. Com'era la mappa? M. Sì, c'è qualcosa là dietro, però non ci posso arrivare. Mi chiedo se il gioco abbia una struttura alla metroid in cui devo trovare qualche cosa per poter scalare questa montagna. al momento l'unica cosa che posso fare è attraversare il campo. Percorso di cazzo. E ovviamente adesso sarà invaso dei mostri. Infatti qui abbiamo già il corvaccio numero uno che... Che cos'è qui? Ah, lascia roba... roba nociva. Tu sei un mostro, lo so. Infatti... Le liane assassine. Le liane sono tante, milioni di milioni. E tu sei una farfaraggia. Un incrocio tra una farfalla e un acquaraggia. Che cosa orribile. non ti avevo visto. Ok, le piante si seccano quando le uccidi. Corvaccio di merda. Muori. Muori. Un'altra farfaraggia. Ah, questa sputa pure. Cioè, probabilmente anche quella di prima, non è solo che non gliene ho dato il tempo. Eh, bisogna prestare attenzione a tutto qui. Attenzione alle cose che lasciano cadere perché fanno male. Eh, infatti, è una robaccia intrisa di mosche. Corvi. Questa volta sono in due. Cerchiamo di renderli uno per volta perché... Abbiamo visto che sono molto pericolosi. Ma poi sono grandi quanto... quanto un mezzo... O... Questo era il cervo. È una specie di cervo. Un alcio e bianco. Non so che cacchio era. Comunque adesso è una carcassa. Che il nostro incautori... Ha reso tale. Un uovo del male. Una piantaccia schifida che vuole mangiarmi. Così. Sì. E qui c'è un punto di salvataggio, però. Dove siamo? Ecco, vedo un doppio... Ah, qui c'è un bivio, però io... Da dove vengo? Dal campamento, sì. Sì, sì, sì. Quindi adesso posso decidere di andare a destra o a sinistra. Vogliamo andare a sinistra? Vedo più roba civilizzata. Su, foresta di Lemnar. Giù, strada per la città di Maros. Andiamo a Maros, va. Con tutti i pannos. In realtà, però, c'è dell'altro. Ma c'è un fragoloide? No, mi sono perso il fragoloide. Guarda, questi bastardi. Ma accelerano. Se gliene dai l'opportunità, sì. Ok, battuti. Attenzione. Questa pianta è una tagliola gigante, formato vegetale, praticamente. Per i boschi di Aptos. Ma, dove cacchio sto andando? Ah, però, sì, è vero. Ma muori, corvo di merda? No, purtroppo non lo posso attaccare qui, perché se provo... Se prima il tasto di attacco, lui, si firma a leggere i cartelli. Maledetta bestiaccia, no? Questa cosa è tossica. Se ho capito bene le mosche intorno a quello che droppano, ti indica se è nocivo a raccogliere. Oh, un fungo. Non mi fido di funghi. I funghi sono cattivi. E ne mettono spore. Infatti, questo è un fungo ragno. Un fungo ragno schifoso. Pieno di spore velenose, naturalmente. E sei anche pieno di punti ferita. Non muori mai. Quando crepi... Ah, eccolo, ho ucciso, finalmente. Corvo. Il pietre è già bestiaccia schifosa. E adesso dove vado? Non giù. Voglio andare a Maros, quindi... Andrò a Sinistro. Un altro di questi funghi giganteschi... Ecco, stavolta ho fatto una cazzata. No, devo combattere con prudenza. Queste bestie... Sono molto pericolose. E vanno prese con... Con le pinze. Non possono essere attaccate così. A cazzo di cazzo. Ok, ora è morto. Attento a dove metti i piedi, il giovane re. Un cosciotto che però è andato a male. Vedo le mosche intorno qui. Non intendo raccoglierlo perché secondo me mi fa male. Una farfaraggia delle palude. No, una farfaraggia velenosa. Muori. Uccidiamo questa roba... Lianofila schifosa. C'è un corvo di riva e non lo posso raggiungere. Però lui vuol raggiungere me. Ok, l'ho ucciso. Comunque non c'è niente a questo. Se non una luna nemica. Che sembra rimproverarmi per le mie malefate. Oh, una tarta spada. Sei una tarta lama. E sei molto pericolosa. Perché se mi avvicino mi trafiggi con le due lame. Impalante. Ma io sono il re di queste terre e sono determinato a raggiungere la città. Mi fermerò davanti a niente, bestia schifosa. Oh, oh. Forse ho parlato troppo presto. Ecco qualcosa davanti a cui mi dovrei fermare. Almeno a riflettere. Ciao. Mi stai dicendo che non posso avanzare? O posso provare a colpirti? Brutta bestiaggia. No, posso provare a colpirti. Ok. Accidenti. Se avessi il mio arco, vedi? Come saremmo avvantaggiati qui. Ma forse non potevo averlo per ragioni romanzischi. Comunque non mi arrendo. Ti piegherai alla mia volontà. Ecco, appunto. Questo è un cosciutto buono. Posso raccoglierlo e mi fa bene, sì. La solita pianta schifida. Dai, andiamo. Cos'altro ci può essere ostacolare la mia marcia verso la città? Quanto a lungo pensate di continuare, mostri? Ahia. Come hai usato? Pagherai con la vita per questo affronto. Non sai chi sono io. Per la città di Maros. Ma quindi l'ho già superata? Scusami. Ah no. Città di Maros. Ok, ci siamo arrivati. Ovviamente sarà in rovina a questo punto, no? Una tartalama delle valuti. No, c'è gente viva. Fermi tutti. Non farò passare nessuno. Uomo, mostro fantasma. Non c'è possibilità. Non dirmi che devo combatterti. Benvenuti nella città di Maros. Ok, rispettate le nostre leggi e godetevi la permanenza. Oh, scusa, straniero. Non ho denaro, risparmiami la vita perché dovrei... Perché dovrei attaccarti. Stiamo scherzando? Qui non ci posso arrivare, vero? No. Per parlare con quella tizia mi serviranno degli stivali che consentono il doppio salto. Una fontana. Posso entrare nell'acqua senza farmi del male, sì. Salve. Mi dicono che queste terre siano relativamente sicure. Ci sono peggiori posti in cui vivere di questi tempi. Se per questi tempi intendi l'ultimo quarto d'ora... Potrei... Dover rivalutare le mie... La mia classifica di posti da vedere. Studio di artista. C'è un cuore. Ma non ci posso arrivare. Vorrò trovare un modo per aprire questo passaggio. Eh, forse ci vorrà qualche potere speciale per abbattere le pareti. Eh, mi dovrò ricordare di questo posto. Certamente grandi città come la nostra attraggono più mostri. Avrei preferito vivere a Bradnos. Dove si trova a Bradnos? A nord. No, con un salto semplice non ci arrivo lì. Devo anche stare attento alle cadute. Come ha suggerito il gioco in precedenza. E qui c'è un posto di salvatoria. Spiacente straniero. Non ho tempo ora. Vabbè. Casa di Gimbesta. Ciao Gimbesta. Sono certo che l'alchimia sia la chiave per sigillare questi mostri di nuovo. Anche qui non ci posso arrivare senza doppio salto. Bestiario. Granchio fungo. Specie simbiotica di granchio terricolo. Quanto fa Castlevania questa roba da 1 a 10? Un fungo velenoso cresce sul suo torso e lo usa nel predare. Lo impiega anche per planarinare o per emettere lubi di spore tossiche. Di norma riposa sottoterra con la sola parte fungina che emerge attraendo la preda. È vero. L'ho incontrato così. Pare che avremo a che fare con numerosi mostri, eh. Ma non è vero. Io ne ho trovati degli altri perché mi dice che sono tutti inesplorati. Almeno il corvo, la pianta. Questo bestiario è largamente incompleto. Mi da solo il fungo, eh. Io ho incontrato molta più roba, finora. Vabbè. Riprendi. Le tasse del nostro crudele re non erano abbastanza. No. Ora orde di mostri. È bello sentire che la tua popolazione ti ama. Crudela, insomma. Su via. Mio fratello è stato fuori nei boschi una notte e non è più tornato. Vuoi provare? Signorina. Casa con molte signorine vicinte. Questa ragazza è nuova. Si carina con lei. Dai, bello. Dai. Oh, si romba. Vieni. Dai, sì. Vieni. Adesso. Oh, sì. Oh, sì. Sì. È diventato un gioco porno nel giro di... Beh, in fondo anche Kratos l'aveva fatto. Credimi. Belanna ti farà urlare. Ebbè. Pensa se urlanna ti farà velare. Che divertimento. Però, quelle sopra non le posso raggiungere. E... Dovrò tornare anche qui. Per godermi... Gli attimi di passione che mi sono stati negati dalla mia incapacità di saltare. Benvenuti in una città di Maros. Rispettate le nostre leggi e godetevi la permanenza. L'altra notte ho imparato con la mia lancia qualcosa che non può essere sopravvissuto. Ma il giorno dopo era sparito. Mi tocca veramente tornare nelle terre selvagge. Muori, tarta infame. Sei una tarta infame a delle paludi. Ok. Quindi se proseguo su questa strada arrivo al mare. Vuol dire che poi saremo nella mer. Cioè vuoi dire che siamo in mezzo al mare? No, no. Foresta di Lemnar. Ok, ci siamo arrivati. Però le foreste sono luoghi insidiosi. Perché le specie boschive sono diventate delle mostruosità. Ma di qua dove si va a finire? Ah, ok. Se guardo la mappa, questo mi porterà a nord. È strano però. No, io voglio andare di qua. Ma c'è una farfaraggia delle paludi. Velenosa e letale. Che ha lasciato una merda secca. Non ci posso arrivare. Scendi tu allora, bestiacci. Fin qua ci arrivo. Ma da sopra... Ah, cado! Cado! No, 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 muoio. Muoio. Sono morto. Sei morto e la terra è dannata per sempre. Pensa un po'. Posso ricaricare il salvataggio. Ok, da dove sono morto. Ok, quindi qui è proprio platforme selvaggio. Non si può sbagliare, se no. Ah, posso respingere i loro colpi con la spada. D'attenzione, questo è molto importante. Eh, certo, se potessi salire su quelle piattaforme, magari sarebbe tutto più semplice. Perché io così... Così non ci arrivo dall'altra parte. Forse mi sta comunicando che... Ah, no, no, aspetta però. Posso fare... Un po' di zumping su questi tronchi per evitare di finire nel fiume. Che è l'unica cosa letale. Se caschi giù dalla prima piattaforma non muori. Però c'è questa bestiaccia malepica che mi sbarra il passo. Muori, marrano! Ok. Ce la posso fare? Sì. Ok, sì, è fatto apposta bene. Oh, e tu cosa... Che schifo sei tu. Sei un... Un... Un geragno. Sopra geranio e sottoragno. Oddio, che specie orribile. Ok. La farfaraggia delle valute. A volte si blocca, non so perché ma... Ah, maledetta. È come se si creassero un percorso alternativo per... Perché è il doppio salto? Ma da qua non posso salire. E come ci arrivo lassù? No, 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 non cadere! Ops. Sono morto. E la terra è dannata per sempre. Eh, vabbè. Finché non trovo il modo di superare questo ostacolo dovremmo rifare sempre tutto. Compresa la farfaraggia delle valute che trovo all'inizio. Il corvo d'ora. Abbiamo stabilito che qua sotto ci sono dei rucchi su cui posso saltare. No! Dovevo stare più attento. Ma questo è un uovo genuino e sano si può raccogliere però non me lo fa prendere perché sono povero e sfigato. Vabbè. Allora, hop. E qua devo stare attento perché si rischia veramente di finire nel fiume e devi morire. Hop. Un bel salto calibrato e stiamo dall'altra parte. Fletto i muscoli e sono nel vuoto. Qua ho rischiato... Ho rischiato la pellaccia. Ok, abbiamo abbattuto il corvaccio brutto e cattivo. Corri, salta. C'è il geragno. Attento al geragno. Eh, vedi che il geragno è doppiamente pericoloso perché... Uccidi il geragno! Uccidi il geragno! Daglio al geragno! Ok, il geragno è morto. Ok, allora, firmi. Per il percorso superiore forse ci posso... ci posso andare però un po'. Uccidi la farfaraggia. Uccidi la farfaraggia, non farti colpire. E' vero, sì. Ci posso arrivare qua sopra. Scusate, starnuto tattico. Devo presumere che se sbaglio un salto qui sono morto. Quindi impegnati, ragazzo mio. Bene, siamo arrivati dall'altra... Oh, una lumaca gigante! Attenzione, anche questa sputacchia, eh! Come tutte le lumache. E' bavosa. Aia! E fa male. Uccisa? Sì. Ma come si è aperta brutta? Che schifo che fai! Anche tu, corvo. Io non lo so perché sto andando di qua. Sto andando verso il mare, ma che mi serve andare al mare? Oh, perché c'è Tiresia? Sei tu, vero, Tiresia? Ma qui ci sono delle sabbie mobili. Nel futuro, era scritto, ci incontrassimo ancora. Quella torre che vedi in distanza è un tempio incredibilmente antico che contiene un grande potete. Trova un modo per raggiungerlo. Fra tutti gli infiniti futuri che vedo, quelli in cui sei ancora vivo, almeno per un po', passano tutti di là. Per un po'? Il futuro cambia come una nuvola nella tempesta. Addio! E ricorda il mio consiglio. Eh, da un grande potete derivano grandi responsabilità. Ma non posso proseguire, vero? Perché qui c'è il mare e il mare, come si sa, è fatale. Eh, non voglio rischiare di morire perché non ho potuto salvare. Mi accontento del consiglio che mi ha dato e me ne torno indietro, ma quindi devo farmi tutta la strada? Gnieee, no, non voglio. Non mi hai fatto salvare. E la torre di Iria, quella cosa a cui allude dalla mappa, sembrerebbe di cima per arrivarci. Devo fare un sacco di strade. Eh, qui però il mondo è finito. E io, come Alessandro di Filippo, mi sento una nullità davanti al mare. Nell'acqua bassa ci posso andare, però lì annego. E quindi il mio percorso è veramente finito. Dovrò tornare e riaffrontare tutti i mostrigli schifosi. Bene, dai. Abbiamo un nuovo scopo nella vita. Riattraversare l'orribile foresta di Lemnar senza cadere in acqua e senza annegare. Ora sarà ancora più difficile perché il percorso è in salita. Ma io non mi fermo davanti a nulla. io sono il potente Red Zyron e finirò in acqua come un coglione. Sì, ce l'ho fatta. Sono morto come un idiota. E vai. E adesso? Eh, ora la domanda è io devo tornare da Tiresia per farmi dare questo saggissimo consiglio oppure posso proseguire la mia strada senza senza induggiare. è troppo complicato arrivare lì però mi ha fatto trovare niente. E tu sei una farfaraggia molesta. Arrivò e se i mostri non li uccido poi rompono il ca. Maledetto. per il ponte di Kennar e di qua invece dove si va? Kennar? ma io voglio arrivare a Iria c'è un geragno molesto e c'è un lupo un lupo famelico il famoso lupo scheletrito di Artigos eh uno alla volta ragazzi non vi posso affrontare tutti e due ah se solo avessi l'arco senti il geragno spara palle prendi una decisione vieni dove ti posso uccidere bastardo ok e il lupo? il lupo sputa sempre fuoco no però è feroce e cattivo e ha anche un sacco di punti feriti oddio ha letteralmente vomitato tutto sangue avanti per il ponte di Kennar attenti a dove mettete i piedi e anche e anche il resto visto che ci sono le tartalame allora significa che questa cosa cede cede su tutti i miei piedi e io non posso sapere dove ti prego no corri corri salta evita la tartalame ora ho capito il senso delle tartalame indietro bestia rivoltante si è rivoltato mannaggia se fanno male se ne incontro un altro eh cazzo sempre con questa spada della chicco fra l'altro devo dare il tempo di allungare la lama però non così è morto ma si può droppare qualcosa che mi cura oh bravo bravissimo un altro geranio e finché da solo posso ancora gestirla col geranio meglio essere aggressivi perché se no oh un fragoloide anche il fragoloide mi cura ok boschi di iria perfetto ci stiamo avvicinando alla nostra destinazione signori fragoloide buono il fragoloide mi sento in colpa per non essere tornato all'indovino però era una strada troppo complicata per poterla rifare anche al ritorno senza il rischio di morire nel fiume anche perché veramente quel percorso di ritorno è complicato da fare perché in salita il geranio fermo attaccalo attaccalo non lasciargli tregua vai dagli al geranio tartalame in vista in realtà sembra un tartacoltello svizzero più di una tartalama perché ok ho ucciso anche la pianta tagliola il corvo tre il geranio che ti spinge tra le fauci del lupo raffinata come trappola dai sputa fuoco no non posso colpirlo più di una volta perché lui si alza la testa e quindi va fuori portata devo evitare la sua fiammata e poi colpirla non è difficile vuole solo il giusto tempismo muri un cosciotto oh una lumaga schifida quanto vorrei avere un arco in queste circostanze e vedi si gira troppo rapidamente questa bestiaccia troppo rapida nel colpire vabbè l'ho aperta in due come una gozza dove stiamo andando maestà sopra perché sotto si va a finire un'altra volta in riva al mare anche se prima o poi un pipistrello prima o poi andrà a finire e ci dovrò andare per trovare qualche oggetto pipistrello sembra proprio Castlevania style ma di brutto anche perché ti persegui dallo stesso modo gli strelli Castlevania sono dei cacacazzi infiniti ci sono altri ok era un uovo genuino tempio di Iria siamo arrivati signori quali meraviglie riserverà questo posto quali misteri e quali segreti verranno svelati qui intanto un salvataggio poi c'è un fungo aio sarà venenoso si è venenoso tempio di Iria prega il dio ti porterà al cielo per ora vedo solo tartalame acqua con ranugne e geranni affamati puntati sul soffitto le ranugne sono chiaramente ostili insegui il geragno e inchiodato il muro non ho modo di vedere cosa troppa quindi anche se lascio un oggetto non lo raccolgo perché potrebbe essere avvelenato ciao farfaraggia una farfaraggia dei templi la piantaiola ha un aspetto saporito in questa stagione ma qui mi faccio del male se cado ma tanto male aia che brutto posto per una guata le liane sono tante milioni di milioni la liana di negroni sai che ti ammazzerà quella roba c'ha le mosche intorno quindi oh un pipistrello gigante con carne avvelenata ciao te la vuoi tenere lascio alle mosche anche questo tempio fa molto gastolvania guardati i mosaici altra carne avvelenata non la voglio farfaraggia almeno tu non mi deludere troppa qualcosa di buono no eh vatti affidare delle farfaragge moderne pipistrelloidi ci saranno passaggi segreti in questo gioco il tempio mi sta portando veramente in cielo solo che ci sto arrivando a piedi è quello che non mi aveva detto ecco bravi scendete così vi posso massacrare meglio bestiacce schifose stivali dimmi che servono per stare il doppio salto sì evviva ho il doppio salto evviva devo salvarla questa cosa però evviva posso andare in tutti i posti dove prima non potevo andare che figata sono un uomo potente dai curami bello è vero quindi mi sta portando in cielo il tempio mi ha dato mi ha dato lo strumento per raggiungere le posizioni più elevate attenzione vi vi strelli molesti in arriva ma qui c'è anche una scala celeste vedo un raggio di sole che che illumina questo posto carne avvelenata te la puoi tenere comunque è bello sono il bel monte più felice della terra ora che posso fare il doppio salto vieni qui bestiacci vieni qui c'è una pergamena cosa sei pergamena ma sembrano tipo collezionabili no ho capito cosa sono sono le pagine del bestiario per quello avevo un solo mostro perché non le trovi quando incontri i mostri le trovi quando ti raccogli la terra mica era il numero 12 il fungo aspetto si quindi era la pagina numero 12 ecco cosa significava quel 12 che ho trovato scritto lassù e quindi il bestiario lo devo recuperare una pergamena alla volta eccolo qua warg un enorme mostro che molti pensano sia solo un fantasma come altro potrebbe salare fiamme come mai brucia fino ad incenerirsi se è ucciso è uno dei misteri di queste terre e può essere molto difficile da uccidere è vero è difficile da uccidere ma non è difficile sopravvivergli perché non è non attacca a distanza c'è ancora un pipistrello da uccidere qui devo stare attento a non cadere in modo troppo un pipistrello attraversa i muri non voglio cadere non voglio cadere brutalmente e sfracellarmi però voglio tornare per la via maestra la domanda è c'è qualcosa al di fuori se non sei un passaggio segreto forse lo sei ma ci vuole un'altra arma per sbloccarti dicevo se non sei un passaggio segreto cosa ci stai a fare ad un'altezza che prima non potevo raggiungere vedete questa cascata se mi ci fossi lanciato mi avrebbe ucciso probabilmente aiuto 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 no 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 non sulle punte no 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 ok ma il geranio è morto si ok bene in pratica il saggio mi voleva dire che se non passavo di qua non potevo prendere gli stivali e quindi non sarei sopravvissuto a quello che mi aspetta adesso ma qui non posso salvare di nuovo quale diavoleria è mai questa il punto di salvataggio va ricaricato con tanto di geranio allegato torno indietro geranio malefico non posso avanzare troppo se no il fungo mi attacca rifoglio il mio arco non voglio risvegliare il fungo prima di aver ucciso il geranio però ho salvato mi dicono o no non lo so ecco se lo uccido va molto meglio così posso fare un salvato pulito bene dove ci troviamo? a iria ma c'è qualcosa che non ho esplorato qua sotto e il mio spirito di esplorazione mi impone di andare a vedere cosa si dice in riva al mare non so perché ma sono attratto dal mare anche se rappresenta un pericolo letale per me oh anche il combattimento con i corvi è diventato più semplice ora che posso non dico volare ma almeno trattenermi in aria più a lungo forse anche le lumache saranno meno difficili da uccidere la lumache va affrontata frontalmente e non cercando di colpirla di colpirla alle spalle lupo non è ancora aggiunta la tua ora io ho altro da fare adesso adesso invece dovrò combattere con questo e adesso finalmente sarà una lotta un po' più alla pari perché lui salta ma posso saltare anche io maledizione una semena però uccidi la farfaraggia quanto cavolo sei resistente mannaggia mi togli la metà vita sto coso devo andare di qua spiaggia ecco lo sapevo c'è qualcosa anche qui scendi giù maledetto palesati combatti da ragno o da geranio o da quello che sei no lo so decidi tu tarta infame per te solo le lame muori no quel luogo è maledetto il corvo delle sabbie mi vuole male perché insisto sull'acqua forse in futuro ciao si resia sei sempre tu il futuro era scritto ci incontrassimo ancora quella torre è venuta in distanza un tempio incredibilmente antico ok lo stesso messaggio di Uri le spiagge non hanno altro da rivelare perché poi c'è l'acqua che è un pericolo mortale non mi posso immergere più di tanto altrimenti ci riesco in pratica ho buttato via metà della mia vita contro quel lupo solo per sentire la stessa stronzata maledetto Tiresia lo so che ti stai prendendo gioco di me proprio come nell'antica Grecia eh chi lo affronta un'altra volta adesso per fortuna non sono costretto ad ucciderlo questo è buono però si mangia non ho ancora capito come lo devo affrontare forse così no perché mi danneggia lo sisse posso provare ad evitarlo quello sì anche perché i pericoli che mi aspettano davanti sono più che sufficienti per uccidermi uovo marcio la lumaca come si affronta la lumaca non alle spalle devo farla girare perché se no il org si fa sempre allo stesso modo devo stare attento perché il doppio salto può addirittura alterarmi il tempismo è meglio se salto una volta così sono sicuro di colpirlo ok via no ancora il geranio ma io il geranio lo uccido perché potrebbe tropparmi a un fragoloide in questo momento mi serve invece no ehi tu corvo levami le mani di dosso però anche quel uovo schifoso te lo potevi tenere in un tuo marcio tarta infame per te solo le lame e troppa qualcosa maledetta se vabbè geranio geranio e farfaraggia vai oh ma si demolesti tutti e due eh tra lui e lei scegliere non saprei eh no 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 voglio il fragoloide ma senza la merda eh purtroppo mi ha fatto raccogliere entra anche questo è marcio ponte di kenna troppi geranio però il geranio non è un avversario semplice perché vedi che fa dai troppo un fragoloide ti prego no tra l'altro la solidea devi attraversare quel ponte pericolante mi fa sentire male ucciso anche il work ma solo carne marcia dai datemi qualcosa che cura non posso continuare così all'infinito anche perché poi ci stanno sti besti schifidi che non riesco a combattere ancora forse sono troppo debole ecco con il doppio salto posso saltare le tartalame evitando che ok sono vivo sono miracolosamente vivo c'era un geranio qua sopra si è anche il lupo però per questo servirebbe un arco questa è la verità attaccarli da vicino non aiuta e il geranio vuoi sbarrare la strada e posso triggerarlo per farmi attaccare ma vedi questo mi insegue e mi colpisce inesorabilmente non lo posso evitare lo posso uccidere ma poi non droppa e non mi cura e mi ritrovo indifeso l'hai il geranio o almeno tu però troppo amico qualcosa se no sono morto che infame io siete fungo tu gli vuoi dire qualche cosa? ah maledetto un fungo buono un fungo buono da mangiare che bello dove siamo? è all'incrocio di là torno alla spiaggia carne schifida carne schifida e geranio ancora il geranio mi stanno massacrando dai droppate la buona sta carne più vi strelli dei miei stivali farfaraggia farfaraggia tu mi vuoi dire qualcosa di buono o no? non mi dici niente di buono devo andare a Bradnos? io non so se a quel villaggio lì ci sono stato oppure no non vorrei saltare delle tappe andiamo giù per il villaggio di Bradnos ladri a cattoni feccio attenti ci manca solo questo villaggio di Bradnos ma allora ci sono ah ok si perché in effetti era quello che solo le lame solo le lame però c'è un uovo buono il famoso uovo buono benvenuti a villaggio di Bradnos dove potrete salvare la vostra partita e curare le vostre ferite ok toc toc c'è nessuna casa di Menos Mottemenos i viaggiatori dicono che il regno del nord è afflitto come qui ma da creature diverse devo sbrigarmi l'ultima cosa che voglio che succede è farmi trovare fuori casa quando arriveranno i mostri casa di Beko salve straniero sì mio ospite se lo desideri abbiamo costruito il nostro villaggio ben protetto per difenderci a ladri e barbari così ora siamo al sicuro dai mostri che hanno invaso le terre per un po' o almeno spero che le fortificazioni resistano ho sentito che i mostri stanno crescendo in numero ogni giorno casa di Hegro ho sentito storia di qualcosa di tanto grande da ingoiare il nostro piccolo villaggio per intero certamente questi sono i primi segni della fine dei giorni vorrei vivere nella città di Maros la me sentirei più al sicuro le sue mura possono sostenere qualunque attacco questo villaggio è stato quieto finora quanto durerà? devo sbrigarmi l'ultima cosa che voglio che succede è farmi trovare fuori quando arriveranno i mostri mio marito è andato a Silus un anno fa per cercare lavoro ma mi ha mandato solo qualche lettera poi più nulla cosa gli può essere successo? sono così disperata intanto qui c'è una pagina del mostrificario vediamo un po' il mostrificarium a pagina 40 cosa ci racconta lama sacro una rara visione nelle foreste dell'ovest si dice abbia magici poteri che abbia una connessione mistica con la natura stessa la gente di Kinstaria non lo toccherebbe per nessuna ragione e si dice porti grande sventura a molestarli ma non me lo potevi dire prima? se me lo avessi detto all'inizio il gioco sarebbe finito prima di cominciare non saremmo qui a parlare di questo non l'avrei mai toccato qualcosa tra l'altro l'ho ucciso per sbaglio lapidi un cimitero una tarta lama tarta infame per tesoro di lame uovo marcio e dove sto andando da qui? che staria ma secondo me poi allora l'accampamento le cascate forse le cascate mi dicono qualcosa sembrano l'unico posto dove posso andare a parte le spiagge che ho visitato e ormai non ci restano molte alternative anche se posso tornare nei posti che ho già visitato per vedere dove posso arrivare con i nuovi stivali qui c'è una piantaiola piantaiola che mi ha freddo ad uccidere anche se non dropperà niente e quindi da qui su si va alle cascate ok andiamo verso le cascate devo imparare a combattere con questi mostri questi luvi altrimenti sarò sempre in svantaggio all'incontro e come vedi correre non fa bene perché attivi altri mostri che ti inseguono fino a sesto calè i mostri non mollano la presa non tutti almeno noi vogliamo andare alle cascate è vero sì non vogliamo tornare alla spiaggia quindi è di qua che devo andare oh che bello la mappa si ripane in modo non lineare ora io gli stivali posso visitare i posti che prima erano preclusi le cascate di Izugo ma non ho un arco come affronto questo calamaro così ah questo non era uno di quelli invulnerabili alla spada ok temevo di doverlo evitare e basta una tartalama blu questa richiederà più colpi per essere uccisa come nella miglior tradizione dei giochi a 8 bit dove varietà di altri colori di mostri hanno diversi gradi di potenza io però di qua ci devo passare quindi tu devi morire cara mia tartalama quello che mi spaventa è che le cascate non mi consentono di vedere la terra a tutti i piedi né le insidie che si nascondono tra un terreno e l'altro appunto tipo questo corbaccio schifido ce la vuoi fare mio giovane credo in te ma no qui no però tartalama specchio specchio e lei è brame perché incontro solo tartalame sembrerebbe che quella quella grotta quella entrata qualunque cosa sia sia raggiungibile solo cos'è questo rumore c'è qualcosa che sputa che sputa cose ho visto dei proiettili cadere sì c'è un un mollusco delle delle cascate in teoria i proiettili dovrei poterle spingere oh un cosciotto buono ma io voglio sapere cosa c'era in quella grotta e proverò a tutti i costi a raggiungerla aaa muoio mi uccido così cascate di zugo ah e si prosegue da qua un raggio di sole l'ultima volta che ho visto un raggio di sole ho trovato un oggetto potente speriamo che sia così anche qui dai dammi un uovo carne marcia questo un cuore è viva i cuori mi curano ma non lo posso raccogliere è inchiodato qua dentro non ho non ho armi per scalfire questa porta è già successo nella città di maros c'era una parete che non potevo abbattere dovrò cominciare a prendere nota di queste cose sono tutti i posti in cui dovrò tornare quando avrò un altro potere ora devo rifare tutta la strada però vedi che era proprio impossibile arrivare fino a sopra adesso i mostri si sono resettati quindi ritroverò anche i calamari e se non imparo a combatterli questo mi sarà fatale allora se avessi un arco perché non ho trovato il mio arco nelle tende della caccia no questo è un arcio non lo posso raccogliere posso provare ad evitare il calamaro ma quello sicuro lo devo combattere a forza bravo girati così ti attacco troppa pure qualcosa già che ci sei un cosciotto si però in marcia il cosciotto di calamaro marcia non è il mio piatto preferito aia fate male troppa qualcosa dai buono cosciotto buono no 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 tu eri un corpo cattivo tanto cattivo in un'altra vita ma pure in questa e mi stai ancora inseguendo bestiaccia schifida almeno ti ho ucciso così non ti ritrovo quando arrivo sopra tagli al calamaro tagli al calamaro ok la strada è bloccata da questa parte questa vetra è enorme non posso spostarla ma è tutta crepata forse qualcosa la potrebbe frantumare qualcosa mi dice che se troverò un martello quello sarà il momento in cui riuscirò a proseguire su più fronti bene quindi anche le cascate sono un vicolo cieco almeno per ora però ci dovrò tornare anche perché c'è un cuoricino da prendere no no non ti ammazzare non ti ammazzare mio buon re non cadere così minchia se si è fatto male ragazzi però c'è il fragoloide buono ci vuol curare no 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 cadi sul morbido per favore tarta infame verti solo le lame tarta lama svizzera mi raccomando prediligi gli atterraggi morbidi mi sembra di essere tornato ai tempi di tarrigan 2 per affrontare queste cose sulle cascate uccidi uccidi colpisci colpisci dai dai posso vedere cosa no quella è in marcia lo vedo da qua cascate di zugo attenzione posso salvare yuppidu insisto sui calamari senza raccogliere il drop potrebbe essere venenoso ok era solo un punto di salvataggio ma è stato importante perché ho potuto mettere da parte tutta questa parte di viaggio che ho fatto e quindi adesso cosa resta? se il mio accampamento è chiuso è solo il sentiero meridionale a questo punto ma è troppo lontano per arrivarci adesso mi tocca chiudere il video va bene abbiamo appena salvato quindi tutto sommato so che potrò ripartire da qua ma giusto per sicurezza estremo scrupolo facciamo un altro salvataggio e chiudiamo qui perfetto ok allora questa prima puntata di The Westland si chiude qua abbiamo dato un significativo primo amorso al gioco vedendo l'introduzione vedendo come comincia e addentrandoci in queste misteriose terre che a quanto sembra potrebbero essere più vaste di quello che riusciamo a immaginare fin qui perché abbiamo quasi esplorato per intero la prima sezione di mappa ma se ho capito bene ce ne sono altre 5 quindi il gioco sicuramente avrà tanto altro da riservarci anche perché dobbiamo ancora trovare l'arco dobbiamo trovare una spada più potente dobbiamo trovare un martello probabilmente per abbattere gli ostacoli che ci si sono presentati comunque spero che vi sia piaciuto questo approccio questa prima esperienza su questo gioco a me il gioco diverte molto anche perché il tipico Metroidvania che io adoro con una grafica 8 bit abbastanza primitiva forse il programmatore non aveva le risorse per realizzare di meglio a livello grafico a me sarebbe piaciuta una grafica almeno in 16 bit ma non mi lamento perché comunque gli oggetti i mostri le case sono tutti abbastanza nitidi sembra un po' di giocare a Castlevania 2 per quella che è l'ambientazione anche via di questa cosa che ci sono i villaggi in realtà il gioco mi ricorda ancora di più qualche altra cosa un gioco che ho giocato in gioventù e che vi proporrò sicuramente appena avrò ripreso un po' la mano a giocarci e al quale è molto simile in tanti aspetti e quando poi lo porterò vi renderete conto delle affinità allora questa prima puntata di video senza webcam su gioco indie retro eccetera eccetera si chiude qui spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un like e io vi rimando alla prossima puntata con il vostro Esit Archangel e la sua sezione di videogiochi su youtube ciao a tutti e alla prossima e alla prossima e alla prossima